Come è la giornata sul suolo? Ci ospita il Legambiente che sono i tre partner costitutivi del centro di ricerca ma oggi questa giornata è stata appunto condivisa anche con ISPRA, con l'Istituto Superiore per la Protezione dell'Ambiente e con altre associazioni che in questi anni salviamo il paesaggio a ISSA cioè l'Associazione delle Società Scientifiche Agrarie e anche il Politecnico di Bari che con il centro di ricerca ha svolto un approfondimento sui fenomeni di consumo di suolo nella regione Puglia che oggi insieme ragionano, riflettono sulle questioni sul consumo di suolo, sui rischi che questi processi urbanizzativi seppur rallentati come ci dicono i numeri di ISPRA di quest'ultimo rapporto da poco presentato a Roma che per oggi verrà illustrato invece in modo più ampio da Michele Munafobi per quanto appunto leggermente ridotti continuano a minacciare il nostro paese. Rubo pochi minuti prima di introdurre i relatori che introdurranno, apriranno questa giornata per ringraziare tutti quelli che oggi partecipano ai lavori, a tutti gli autori dei rapporti che verranno presentati senza i quali ovviamente non saremmo qui a discutere, a ragionare su questi temi ma consentitemi di ringraziare in particolare il gruppo di ricerca del CRCS, Silvia Ronchi e Stefano Salata che hanno lavorato molto intensamente in queste ultime settimane per riuscire ad arrivare alla pubblicazione nei tempi della presentazione di oggi di questo rapporto e anche all'organizzazione stessa della giornata. Solo qualche indicazione orientativa su come è organizzata la giornata dopo questi primi interventi di apertura che verranno svolti da Gabriele Pasqui, qui presente già alla tavola, direttore del Dipartimento di Architettura Studi Urbani, da Barbara Meggetto, presidente di Lega Ambiente Lombardia, Pietro Mezzi, consigliere delegato di Città Metropolitana, da Sonia Cantoni, fondazione Cariplo che in questi anni ha spesso sostenuto le attività del centro di ricerca e da il direttore di ARSAF Lombardia, di ARPA Lombardia, scusa, Camisasca, Michele Camisasca, ecco Dopo queste prime relazioni introduttive avremo invece una sequenza di relazioni più ampie e più distese a partire da un quadro sulle politiche europee che verrà sviluppato da Luca Montanarella del Joint Research Center della Commissione Europea e poi da Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Lega Ambiente per poi concludere questa parte della mattinata con una tavola rotonda che avrà molti ospiti che verranno presentati poi successivamente nel momento in cui appunto daremo il via a questa tavola. Nel pomeriggio invece sono programmati degli interventi intorno ai fuochi, a dei gruppi tematici che avranno come tema un primo gruppo di interventi, delle questioni ancora sulle misure, sui caratteri del consumo di suoli in Italia e in Europa, un secondo gruppo di interventi che coinvolge molti degli autori di questi rapporti che oggi andiamo a presentare riguarda invece le questioni della pianificazione territoriale, dei progetti di territorio che cercano di contenere e limitare i processi di urbanizzazione a partire da un approccio legato alla mappatura e alla valutazione dei servizi ecosistemici. Infine un ultimo gruppo di interventi chiuderà la giornata, questa lunga giornata, riflettendo sulle priorità per il governo del territorio, quindi assumendo una prospettiva che chiama in gioco la pianificazione e le politiche urbanistiche, guardando a che cosa si sta facendo anche nel nostro Paese a partire dalla legge nazionale, dalla proposta di legge nazionale che attualmente giace al Senato e che forse non riuscirà ad essere portata a termine, e alle diverse, molto eterogene, leggi regionali che in qualche modo stanno cercando di ridurre e di limitare questi fenomeni. Ringrazio ancora tutti voi per la partecipazione, iniziamo i lavori e lascio la parola subito a Gabriele Pasqui. Grazie.